Andiamo avanti con questo concorso Piccole Stelle Canta, no? E la prossima è Michelle De Filippo. Michelle De Filippo, la sua frase è Unicef. Il mio sogno più grande è di donare un giorno, attraverso la mia voce, un sorriso a tutto il mondo. Allora, Michelle ci canterà un bellissimo brano, La voce del silenzio, resa nota da Massimo Ragnieri e poi da Mina. Ok, grazie Michelle. Grazie. Che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Grazie. Grazie, grazie. Michelle! Però, canti Vorrei una voce, ma una voce ce l'hai e come, direi, eh? Ah sì, per un attimo, a me, se chiudevo gli occhi, sembrava di vedere un film in bianco e nero quando c'erano le star di una volta che cantavano una voce elegante. Però, così, ho visto qualcuno della giuria più entusiasta del suo, per esempio, Daniela Ceccarelli. Ah, ah, prende la parola Valentina. Ebbè, sono loro, perché loro hanno molta esperienza di live. Buonasera a tutti. E vorrei sapere un po' che ne pensate. Allora, intanto ti faccio tantissimi complimenti, Michelle. Sicuramente una carriera da cantante, sicuro, eh? E io dico sempre una cosa. È importante, sì, cantare, avere l'intonazione, una voce stupenda, ma oltre che hai questo, arrivi, arrivi veramente. E quindi l'interpretazione, sia con il corpo, il linguaggio, tutto quello che hai fatto, espressivo, sei arrivata veramente dentro. Sei bravissima. Che bello, che bello. Grazie a te. Veramente un'espressione, una mimica facciale.